Grazie a tutti Grazie a tutti Per quanto riguarda gli outfit Allora Vado col precisare che In questo video Vado a fare degli outfit random Ragazzi Veramente random Senza sapere che cosa uscirà fuori Quindi ragazzi Se volete che magari vi interessano Quegli outfit o qualcosa del genere Basta che rallentate un pochino Il video anche perché l'ho mandato Parecchio in velocità Sul tratto in cui faccio gli outfit Però comunque sia È abbastanza Comprensibile Quindi allora per fare questo glitch Ragazzi per tutti i nuovi che non sapessero Come si fa questo glitch Dobbiamo avere un primo personaggio E un secondo personaggio Se vogliamo farlo con il personaggio uomo Il secondo personaggio deve essere donna Se vogliamo farlo con il personaggio donna Il secondo personaggio deve essere uomo Vado col precisare Che tutti gli outfit Che si hanno nel primo personaggio Con questo glitch si perderanno E se si hanno delle proprietà O delle cose nel secondo personaggio Anche se andranno perse Quindi mi raccomando a ciò che fate E cercate di capire bene il glitch A questo punto Una volta che siete andati in selezione a personaggio Create un nuovo personaggio A seconda della vostra esigenza Se volete farlo sul maschio Create una femmina Se volete farlo sulla femmina Create un maschio Sul canale ci sono anche altri video Lascerò la playlist qui in alto a destra Di tutti i video Anche se c'è scritto pacciato sui video Però tutti i componenti sono funzionanti E poi il metodo non è pacciato Perché lo sto portando adesso Solo che non ho avuto tempo di aggiornare il titolo La Roxar aveva pacciato il metodo Però ora è tornato a funzionare Quindi una volta che abbiamo creato Il nostro personaggio Lo abbiamo chiamato E tutto il resto Andiamo in una sessione pubblica Ci sbatterà in una sessione pubblica Se non vedete le icone del Negozio di abbigliamento Ovviamente Cambiate sessione Perché tanto non vi farà entrare Arriverete davanti al negozio di abbigliamento E vi farà fare un viaggio a voto Perché non vi lascerà entrare Quindi a questo punto Una volta cambiata sessione ragazzi L'unica cosa che dobbiamo fare È andare al negozio di abbigliamento In questo caso avremo Diciamo le icone del Del negozio di abbigliamento Quindi prendiamo un'auto E ci dirigiamo Io più auto più veloce di questa ragazzi Non potevo prenderla Calcolate che sta andando in velocità il video Eh raga Ve dico solo questo Comunque sia Andiamo nel negozio di abbigliamento E andiamo a mettere un po' di parti random O meglio random Non proprio Perché io bene o male Un po' di componenti riconosco Però non li ho mai mescolati insieme Non ho mai fatto miscugli strani E in questo video andrò a fare dei miscugli strani ragazzi Quindi andrò a mettere un po' di parti Di un modo Un po' di parti di un altro E tutto il resto Quindi andiamo a fare questa piccola modifica Diciamo no? Andiamo a mettere Un po' di cose Allora ragazzi In descrizione Vi lascerò una tabella Con tutti quanti i pezzi Diciamo che Che ci permetteranno di fare Dei completi moddati O comunque che ci permetteranno Di fare dei completi Allora Per quanto riguarda il personaggio donna Ragazzi ci sono Tutti i jogger colorati Di tutti i tipi E di tutte Insomma Di tutte le razze Di tutti i colori Diciamo Per quanto riguarda l'uomo Io ancora non sono riuscito a trovare Determinati tipi di jogger Ne ho trovati altri Che adesso Andremo a vedere Qualche jogger Senza capeglia Qualcosina così E E quindi nulla Io sto cercando Vi porto quello che trovo Ragazzi Anche perché Questo glitch Richiede un pochino di tempo Non tantissimo Però un pochino Lo richiede Perché comunque Dovete mettervi lì A cercare i pezzi Provare cose Cazzi e mazzi E E quindi Richiede un pochino di tempo Come ho già detto Vi lascerò una tabella In descrizione E Questa tabella È stata realizzata Da una ragazza inglese Mi sembra che si chiama Tiffy Qualcosa del genere E Come dicevo Non ho tradotto Questa tabella Ragazzi Perché La persona che ha realizzato Questa tabella Non vuole che si traduca Questa tabella Quindi non l'ho tradotto L'unica cosa Che vi posso consigliare Invece È di impostare La play In inglese In maniera tale Da andare a capire Quali sono i pezzi Narrati Nella guida O meglio Nella tabella E Che cosa andrete A ottenere Con quei pezzi Ragazzi Io come ho già detto Qui sto facendo Dei completi Random Anche se so Per esempio Che con questo tipo Di completo Andrò a A ottenere Un completo A scacchi Ragazzi Allora Come ho già detto Io la maggior parte Dei pezzi Li conosco E quindi Vado Diciamo sul sicuro Perché questo glitch L'ho provato Tantissime volte E ho provato E ho provato Tantissimi pezzi E conosco Tanti Tanti completi Come per esempio Questi pantaloni Che state vedendo Dall'1 al 16 Dei leggings Dall'1 al 12 Al 16 Insomma Tutti questi striati Fanno comparire I jogger Tattici E ovviamente Poi se ci mettete Uno stivale sotto Oppure una Una cosina sotto O una scarpa sotto Insomma E andremo a ottenere Per esempio Se andiamo a mettere La scarpa Con il tacco alto Quella azzura O quella azzura O quella a beige Ragazzi Andremo a ottenere Un jogger Con le caviglie invisibili E le scarpe Diciamo A scacchi Poi a seconda Di quello che mettete Ragazzi Ovviamente Vi spawneranno Le cose Dovrete fare Molte prove Dovrete fare Quindi Ci vuole Molta molta pazienza Ragazzi Io vi consiglio Vivamente Di farlo Perché comunque Escono tanti completi carini Se riuscite a capire bene Tutta quanta la tabella Fidatevi Perché escono Completi carini Potrete fare Completi carini E una volta Che vi siete fatti I vostri 20 completi Tutti insieme Ovviamente Questo però Questo Lo dovete fare Dopo Svariate prove E avrete Diciamo In mano I vostri completi Io per esempio Alcuni completi Li ho portati Sul canale Sono nella playlist Outfit Quindi magari Potete scegliere Tra quei completi Se ce n'è qualcuno Che vi piace Ce n'è uno Senza braccia Ce ne sono svariati Ragazzi Quindi Comunque Magari potrete Scegliere 20 completi Li fate Tutti in una volta E dopo Non fate più Questo glitch Perché giustamente Poi vi si cancelleranno Tutti i 20 completi Ve li annotate Ragazzi Vi annotate Le varie parti Che uno Ad opera Per fare il glitch E una volta Che le avete Annotate Avrete i vostri Completi Ovviamente No Io qui Ragazzi Come ho già detto Stavo provando Random Qualche pezzo Così Stavo cercando Pezzi Random Per fare qualcosa Poi ho voluto Provare anche Con una giacca Particolare Che ci mette Un gilet Antiproiettile Che sarebbe Questa qui Che se noi Andiamo In giubbotti Antiproiettile Quando abbiamo Indossato Questa giacca Ragazzi Ci compariranno Dei giubbotti Antiproiettili Super pesanti Quelli speciali Però Solo con Il personaggio Donna E solo con Questa giacca Ragazzi Io qui Ho avuto Un attimo Di difficoltà Perché non mi ricordavo Dove cazzo Stavano Sti giubbotti Antiproiettile Comunque Basterà andare Nella categoria Giubbotto Antiproiettile Selezionare Un giubbotto Antiproiettile Un alla cazzo Come state vedendo Quello che volete voi E automaticamente Avrete il vostro Giubbotto Antiproiettile Che Passato Al personaggio Uomo Sarà un'altra cosa Ragazzi Io qui Lo stavo Sperimentando Infatti Sono rimasto Stupito Che nel personaggio Don Uomo È passato Un giubbotto Antiproiettile Viola Ragazzi Come quelli Che si trovano Nelle attività Di Rockstar Ovviamente Come ho detto Queste sono prove Random Che io stavo Facendo Stavo Registrando Registrando Anche il video Mentre facevo Queste prove E ho detto Va bene Lo pubblico Così Magari Giusto Per far vedere Alle persone Che anche Mettendo Delle cose Random Il glitch Riesce Possono uscire Magari Dei completi Un po' Strani Però Come ho già detto Ragazzi Dovete Sempre Conoscere Un pochino I pezzi Che dovete Andare a mettere Quindi Per il momento Vi lascio A questo Pezzettino Del video E ci sentiamo Fra poco Lecce Dei Roch Mettere Un po' Mettere Чast형 Musica Scuice Cucuice Grazie a tutti a questo punto ragazzi quando abbiamo salvato tutti i nostri completi siamo pronti allora io qui volevo provare questo tipo di pantalone nuovo che hanno inserito per vedere che cosa usciva fuori e quindi nulla allora quando abbiamo fatto tutto il procedimento l'unica cosa che dovremmo fare è andare nel creatore e creare una gara ragazzi sapete tutti come si crea una gara ma non andremo a creare una gara vera e propria andremo a posizionare tutto gara terrestre ovviamente andremo a posizionare tutto fino a quando ci dirà prova la gara non so ragazzi se funziona anche da qui premendo start o tutto il resto però io lo faccio così quindi andate a posizionare tutti quanti i vari oggetti checkpoint e tutto per la distanza di un chilometro e 4 qualcosa del genere e una volta che avete posizionato tutto invece di fare la prova ragazzi vedete io adesso sto posizionando qui più lontano possibile in maniera che sia a un chilometro e qualcosa e quando avete posizionato tutto andate per schiacciare prova vedete che a me la prova non me la dava ora mi darà la prova schiacciate prova e invece di accelerare e finire la gara vi basterà schiacciare il tasto start andare su seleziona personaggio e adesso passiamo al resto ragazzi quindi facciamo start seleziona personaggio andremo sui nostri personaggi una volta che saremo sui nostri personaggi l'unica cosa che dovremmo fare è cancellare il secondo personaggio per questo vi ho detto fate attenzione perché se avete delle cose nel secondo personaggio le perderete ragazzi quindi andremo a cancellare il secondo personaggio quello che abbiamo creato con i completi o meglio il personaggio donna se stiamo facendo per l'uomo e il personaggio uomo se stiamo facendo per la donna comunque sia il secondo personaggio ragazzi quindi andremo a cancellarlo a me qui adesso non si vede la scritta elimina perché comunque stavo registrando da play non avevo voglia neanche di attaccare l'elgato per mettermi lì a registrare anche perché è stato come ho già detto un video random ragazzi e quindi diciamo che l'ho portato così comunque sia ragazzi come ho già detto cancellare il secondo personaggio in questo caso questo andate digitate elimina schiacciate ok per eliminare il personaggio e una volta eliminato il personaggio siamo pronti vedete personaggio eliminato e tutto il resto cazzi e mazzi una volta in questa schermata dobbiamo schiacciare cerchio ragazzi automaticamente ci riporterà nella storia e una volta che saremo nella storia ragazzi l'unica cosa che dovremo fare è start online o sessione solo inviti per stare più tranquilli oppure una sessione pubblica qualunque ragazzi non c'è niente di difficile vedete io arrivo nella storia start online sessione solo inviti e torno nell'online se tutto sarà andato bene e avrete fatto i vostri completi a mestiere seguendo la tabella non avete nessun problema e vi ritroverete tutti quanti i vostri completi online ragazzi è semplicissimo come glitch c'è anche il glitch quello lì della moto regista però io mi ostino a non portarlo perché comunque ci vuole un quarto d'ora 20 minuti ragazzi solamente per duplicare i polli lì i gabbiani come cazzo vuoi fare a voi ci vuole 20 minuti da 20 minuti mezz'ora cioè secondo me è troppo lungo come glitch solo per duplicare quei cazzo di volatili di merda comunque sia ragazzi questi sono i completi questi sono i jogger di cui vi parlavo spero che questo glitch vi torni ancora utile spero che riusciate a fare qualcosa come vedete ragazzi questo è il completo di cui vi stavo parlando che vi da questo gilet viola non ho fatto tantissime prove comunque sia questo era quello che io ho provato al momento ragazzi nell'istante in cui avete visto voi detto questo ragazzi vi lascio un saluto spero come ho già detto che il video vi sia utile che vi piaccia un saluto a tutti ragazzi e al prossimo video ciao a tutti ciao ciao ciao